Siamo qui con Gennaro, da poco finito il match contro il Busca, un 2 a 2, che partita è stata, cosa hai vissuto dal campo? È stata una partita molto difficile, una trasferta che comunque sapevamo che sarebbe stata impegnativa, ma comunque non ho sentito l'importante non era perdere. Abbiamo riuscito a strappare un bel punto, aspettiamo adesso il ritorno, ma per oggi siamo andati comunque abbastanza bene. Speravamo in di più, ma siamo contenti. Due gol tuoi, una grande soddisfazione immagino? Sì, molto. Dato che la scorsa mi hanno annullato i due, sono riuscito a rifarmi. Ripagato, a chi dedichi questi gol? Famiglia, ragazza, a tutti i miei amici, la squadra, a tutta la società che crede in me, ha fatto salti mortali per portarmi qua e sono felice, veramente felice. Tornando a Seri, come avete preparato la gara? Ben preparata, comunque sapevamo che era una squadra molto fisica, forti sulle palline attive, infatti oggi si è visto, avevano un altro piglio loro. Però col mister che ci ha indirizzato tutta la settimana con attenzione, alla fine stessa riusciteva a proteggerla bene. Vi aspettavate un Busca così aggressivo? Ma no, così aggressivo no, perché su una zero ci siamo un po' calati, abbiamo bastato un po' l'attenzione. Poi dopo hanno ripreso la partita in mano loro e è stata dura, però comunque come ho detto prima siamo felici, sarà difficile. Rimanete comunque con un altro risultato utile consecutivo, dove vi vedete a fine stagione? Ma non lo so, non si sa. Vedremo, ora ci godiamo il primato, siamo primi giusto, siamo ancora su. Guardiamo domenica su domenica e poi vedremo. Obiettivi stagionali sia di squadra che tu hai? Di squadra playoff, io ci credo, ci credo tanto, personali fare più gol possibile. Grazie.